Autonomia differenziata e querel con la polizia municipale, due argomenti che saranno oggetto di discussione a Palazzo San Francesco in due distinte sedute del Consiglio Comunale. Il sindaco Piero Castrataro ha annunciato che intenderà a convocare i consiglieri regionali, ma anche i molisani esponenti nazionali della politica, per cercare un fronte comune contro il decreto Calderoli che, secondo il primo cittadino, danneggerebbe il Molise. Si cerca prima di tutto di capire fino in fondo che cosa vuol dire questa riforma, per questo sarò felice di avere in Consiglio Comunale sia il senatore della Porta che l'onorevole Lancellotta. Se, come credo, sarà una duranza aperta, avere anche un esperto che possa spiegare in modo tecnico come la riforma sta andando avanti, qual è l'impatto per le regioni come la nostra che soffrono e che vivono anche di trasferimento statale e che non riescono con le proprie tasse a sopravvivere. Soprattutto per la parte sanitaria. È un confronto che deve essere aperto, senza ragionando, perché in alcuni casi ci possono essere degli aspetti positivi, in altri negativi. Vogliamo capire fino in fondo che cosa succederà alla nostra regione. C'è anche poi da risolvere la questione dello stato d'agitazione che in questi giorni è stato proclamato dalla sigla sindacale CSA. Secondo Castrataro, il criterio con cui sono stati assegnati i proventi dei verbali è corretto ed il dialogo con i caschi bianchi sarà avviato nelle prossime ore. Noi avremo a breve un incontro anche con il prefetto che ringrazio pubblicamente e proprio per conciliare alcune delle richieste che sono arrivate attraverso i sindacati dei vigili urbani. Dal nostro punto di vista c'è stato sempre un confronto serrato, abbiamo investito più di qualsiasi altra amministrazione per i vigili urbani. Stiamo procedendo in modo tale che il corpo abbia il giusto riconoscimento. Quello che è successo per quanto riguarda una parte dei proventi delle multe lo potevamo fare perché un decreto del governo ce lo permetteva per il caro energia. La maggior parte di quei soldi sono stati utilizzati per coprire le spese di energia elettrica delle utenze delle pompe dell'acqua per la parte dell'idrico. Quindi un interesse di tutta la comunità che un decreto specifico del governo ci consentiva proprio per il caro bollette. Grazie a tutti.